Le altre notizie dal mondo dei motori. Meno di un minuto per sottoscrivere la polizza e soltanto tre minuti per denunciare il danno e ricevere il rimborso in caso di un incidente semplice. La rivoluzione digitale travolge anche il mondo delle assicurazioni. Ecco la prima app assicurativa per smartphone in Europa in grado di risolvere i sinistri e rimborsare in pochi minuti l'automobilista. Per mettere in moto il meccanismo basta raccontare l'accaduto all'operatore connesso in chat, fare una foto del danno e fornire i dati necessari alla denuncia. Poi servirà una breve dichiarazione sulla dinamica del sinistro e una firma con il dito sullo schermo. Un'assicurazione digitale al 100% che punta a rivoluzionare il mercato. Con la nuova Genertel abbiamo rivoluzionato ancora una volta il settore delle assicurazioni proponendo un modello pensato nativamente 100% digitale. Questo consente al cliente di avere un'esperienza straordinariamente semplice su diversi ecosistemi di bisogno all'altezza dei migliori standard dei servizi digitali.